Me vedo a piagli! Quante belle sta rappresentazione! Signor, grazie che mi avete portato allo teatro! Mica lo dottore ci ha armato male che ha preso la posta su! Ma no, Filomena! Mio marito aveva un impegno con dei colleghi e non poteva venire stasera e poi sai che gli fa piacere cedere il suo posto a te e lo ha già fatto tante altre volte! E' lo vero, signor! Quante buono lo dottore che fa venire a servo con me a vedere la prosa! A me lo teatro mi piace assai! Certe belle storie! Musac d'attore important! Tante parole pizzute! Signor, io mi sento un po' che meno ignorante quando venga lo teatro! Ignorante? Ma Filomena, cosa dici? Il teatro è per tutti! E' un luogo di svago e di cultura che non conosce limiti di età, di sesso o di rango! E io non riesco ad immaginare la nostra bella città, sai, sul teatro! Vengo al Pomponi da quando ero bambina! I miei genitori mi tenevano ancora per mano quando mi portarono qui per la prima volta! E sì, da ragazza nel foyer! Ho anche ballato, sai! Sì! Sì, era la sede del circolo universitario! Su queste graziose poltronne rosse ho visto di tutto! Prosa, operette, lirica, avva spettacoli e concerti! Sì, 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 sì! L'operette mi sono viste pure lì! La vedo va allegra! Barcurdere, signor! Sono venuti con voi allo posto del dottore! Quante belle canzone! Anzi no! Come è che le chiamavate? Arie! Sì, sì! Arie, arie! Arie, arie! Vedi quanto si impara a teatro, cara? E che risate quando sul palco si esibiscono Totò e Peppino De Filippo! Le migliori compagnie italiane hanno calcato queste scene! Qui però allo Pomponi ci sono venute una frecchia di volte! Perché quando si fa pure lo cinematografo, con l'amica mia ci vediamo i film! E tra un tempo e un'altra, qualche volta fanno pure uno spettacoluccio! Ma lo sai che il Pomponi nel 1930 è stato uno dei pochi cinema d'Italia ad ospitare il primo film mutuo? Si chiamava La canzone dell'amore, diretta da regista Ghirelli. Fu un grande evento! I 1200 posti del teatro non bastarono ad accogliere tutti gli spettatori e una grande polla si radunò davanti all'ingresso. E c'erano tutti, c'era Castellammare e tutta Pescara qui davanti. Signor, ma dov'è che ha chiudere un Pompone? Purtroppo sì, Filomena. Ma no! Ancora pochi giorni e su questa piazza non ci sarà più nulla. 43 anni di storia rasi al suolo in poche ore. Già è stata la guerra! Già è stata la guerra e la distrugge questo bel teatro! Annaggia! Ste belle poltruncine di velluto! Ste decorazioni allaganti! Ste lampadari scindillanti! Già può essere in sacra rompene tutte! Ma perché signor? Perché? Inagibilità! E inagiti che? Pare che questo teatro sia pericolante. Il comune ha fatto dei sopralluoghi e delle verifiche e ha stabilito che l'edificio non è sicuro. Sì, c'è la politica! E quando venivano tutti quelli politici imburtanti? Ha parlato all'un balcone del teatro? Gli indutte pescare il castello a mare che scende sulla piazza a sendì? Allora non era pericolante l'imura, eh? Allora gli faceva comodo l'ubombone, eh? Eh, voglio pensare che lo abbiamo scoperto successivamente. Certo è che mi si spezza il cuore, cioè penso che un giorno qui ci sarà solo un parcheggio. Si abbatte un teatro affacciato sul mare per realizzare dei posti per gli automobili, così scrivono i giornali. Signor! Ma insieme di che ci sta sul teatro? Si è pericolante! Si fa nelle lavure e sta al metà poste! Si ha da parte per forza! Eh, la tua è un'osservazione molto perspicace, Fumena. In effetti negli ambienti degli intellettuali pescaresi si mormora che con una ristrutturazione il teatro potrebbe tornare agibile, ma che forse qualcuno abbia premura di distruggerlo. E perché? Eh, perché? Perché quest'area è centrale ed è vicina al mare, è molto frequentata e i vari interessi si concentrano su di essa. Potrebbe essere oggetto di speculazioni edilizie future. Signor! Ma che mi sticchi? Li palazzo su una piazza di fronte all'umare! Eh, c'è chi dice che mi sarà costruito un albergo più un centro fieristico. E per fa la fiera si distruggi un teatro! Hai ragione, cara. Ma non so proprio a cosa risponderti. Eh, vedi, è tutto così strano. Mi chiedo come Pescara vivrà senza il suo componi, che ormai è parte della nostra vita. Una città senza un teatro e un luogo senza un'identità culturale. Eh, ma foste che scipulite che vogliono distruggere i bomboni perché hanno trovato un altro posto per costruire un altro teatro, eh? Eh, che senso avrebbe? Signor, la vedete voi prima? Speculazioni! Si dice a Cucini. Poi sulla piazza di fronte all'umare costruiscono una cosa e fanno contenta che alcuna. Da un'altra parte fanno lo teatro e accontentano a cacun'altra. E non stiamo a cacca e non ci capimmo niente. L'ho detto anche alla napoletana, eh? Speriamo almeno che ci avremo un teatro nuovo, più bello e più grande dello bombone. Chissà, Filomena. Penso che il bombone fu costruito in appena due mesi da un imprenditore lungilirante. Eh. Nel 1923, se basta così poco per edificare uno spazio di arte e di cultura, magari per la prossima estate Pescara avrà il suo teatro nuovo in un'altra parte della città. Sì, 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 la prossima estate. Signor, finché ci sta il bombone, permettemci a vedere questa rappresentazione che è meglio, va? Eh sì. Grazie. Solo a noi due poteva capitare una cosa così. Grazie, bravi. Grazie. Assolutamente Rossella Micolitti, attrice di teatro.